Il Consiglio regionale ha celebrato la prima giornata del valore alpino. Aumentata la tariffa oraria per i medici di pronto soccorso ed emergenza. Tatuaggi, avviata la discussione sulla nuova legge. Nuova edizione di Consiglio News, bentrovati. Una giornata non solo celebrativa ma di iniziative sui territori e per i giovani. Queste le parole del Presidente del Consiglio regionale Stefano Allase in occasione della celebrazione in aula della prima giornata del valore alpino. Celebrata in aula con una seduta speciale la prima giornata del valore alpino istituita lo scorso 28 giugno con una legge approvata dal Consiglio regionale del Piemonte. Primo firmatario Davide Nicco, Fratelli d'Italia. Una giornata non solo celebrativa ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia ma ricca di iniziative concrete a cui la Regione destinerà 100.000 euro l'anno per il triennio 2022-2024 per diffondere i valori del corpo degli alpini. La giornata ricorrerà il 16 gennaio di ogni anno. Oggi vogliamo per la prima volta festeggiare con gli alpini qua in aula questa giornata gloriosa perché abbiamo necessità di far capire a tutti i cittadini e anche nelle scuole perciò i cittadini del futuro, gli alunni, i nostri ragazzi, cosa hanno fatto gli alpini ieri e anche oggi e faranno domani. Ha un significato importante perché va a celebrare uno dei corpi più importanti della nostra regione e non si limita solo a celebrare l'importanza del corpo ma fa qualcosa di concreto per lasciare una traccia sul territorio di questa festa. Credo che il corpo degli alpini ricordi come forse nessun'altra cosa in Italia lo spirito e la lettera della Costituzione. L'articolo che ripudia la guerra come strumento di offesa dei popoli, cosa che purtroppo oggi in Europa non è rispettato. Io ricordo gli alpini della Taurinense che in Afghanistan costruivano asili. Presenti in aula il comandante della Brigata Alpina Taurinense generale di brigata Nicola Piasente, il vicepresidente Associazione Nazionale Alpini Gianmario Gervasoni, i consiglieri nazionali del Consiglio Direttivo ANA e delle sezioni piemontesi ANA accompagnate dai loro vessilli. I valori alpini sono tre per me molto importanti e sono stati ricalcati tutti e tre questa mattina, questo mi ha fatto piacere. Uno è quello della memoria, la solidarietà e poi l'amicizia. Ho 106 anni, 106 anni e posso ancora andare in giro con il mio capello. Gli alpini ci sono sempre, sono sempre in prima fila. Inalzata da 60 a 100 euro la tariffa oraria per i medici di pronto soccorso e di emergenza. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la legge che prevede l'aumento da 60 a 100 euro lordi della tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive volontarie dei medici del pronto soccorso e del servizio 118. Il provvedimento, presentato per la giunta regionale dall'assessore alla sanità Luigi Icardi, era stato discusso e licenziato nella giornata di lunedì dalla Commissione Sanità, presieduta da Alessandro Stecco, Lega, relatore di maggioranza, insieme a Paolo Ruzzo, la Forza Italia. Si incentivano i dipendenti ospedalieri che volessero fare attività aggiuntiva, estendere il proprio orario dopo il loro orario di lavoro e si parifica, si rende più competitivo questo compenso rispetto a quello che è il fenomeno delle cooperative dei medici gettonisti. Relatori di opposizione, Sara Di Sabato, Movimento 5 Stelle, Francesca Frediani, Movimento 4 Ottobre, Unione Popolare, Silvio Magliano, Moderati e Domenico Ravetti, Partito Democratico. Se si apre alla possibilità di aumentare il compenso orario ai medici si fa bene, solo che non è un provvedimento che tiene in considerazione le problematiche complessive del pronto soccorso. Tatuaggi, avviata la discussione sulla nuova legge. illustrando il contenuto della legge che riguarda sia il tatuaggio estetico che quello con finalità mediche. Il punto qualificante di questa proposta di legge che a breve approveremo è proprio la previsione di un contributo per quelle donne che hanno subito un intervento di asportazione del seno per tumore alla mammella. Quelle donne che vogliono magari fare un tatuaggio su quella che è la cicatrice. Però proprio data la delicatezza dell'argomento, della malattia che è stata affrontata, è necessario che comunque questo avvenga in totale assoluta sicurezza. La relatrice di opposizione Sara Di Sabato, Movimento 5 Stelle, ha messo in risalto la necessità di avere una norma legislativa di riferimento in materia di tatuaggi che preveda soprattutto un adeguato percorso di formazione. Sono previste 1500 ore di corso. Oltre ad una formazione per chi deciderà di intraprendere l'attività di tatuaggio e piercing, contiene al suo interno anche i contributi per i tatuaggi a fini correttivi. Questo vuol dire che la regione garantirà il tatuaggio medicale alle donne operate di tumore al seno. Commemorato in aula con un minuto di silenzio, Giovanni Caracciolo, scomparso il 22 marzo 2021 all'età di 85 anni, assessore consigliere regionale nella settima e nella ottava legislatura. Chi lo ha conosciuto, quelli con cui ha collaborato, gli sono stati i colleghi, i familiari, tantissimi pazienti che ha curato. Ha sottolineato in aula il presidente Stefano Allasia, lo ricordano per l'impegno civile, per la grande correttezza professionale che ha esercitato con chiarezza e passione nei momenti più rilevanti dell'attività politica e della vita amministrativa della nostra regione. Molestie verbali, come reagire senza violenza. Presentato il progetto di palestra di autodifesa sostenuto dalla consulta femminile regionale. Combattere il catcalling, le molestie verbali, in modo non violento ma efficace, aumentando sicurezza, consapevolezza ed autostima di chi ne è vittima. E questo è l'obiettivo della palestra di autodifesa verbale, un progetto del Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile ETS sostenuto dalla consulta femminile regionale, i cui risultati sono stati presentati nella sala Viglione di Palazzo Lascaris. A portare i saluti istituzionali è stato il consigliere dell'ufficio di presidenza Gianluca Gavazza, delegato alla consulta femminile, che ha ricordato come il catcalling sia un fenomeno che non può più essere sottovalutato. Alle giovani generazioni bisogna fornire degli strumenti per contrastare questa cosa che può apparire goliardica, ma in realtà talvolta è molto infastidente, talvolta raggiunge veramente la molestia. Nata su impulso di una giovanissima socia del Centro Studi e Documentazione, l'iniziativa ha coinvolto un gruppo di studentesse, studenti delle classi terze dell'Istituto Superiore Santorre di Santa Rosa di Torino. Abbiamo deciso di fare questo progetto in particolare io insieme all'associazione per cercare di capire come difenderci dal catcalling e cercare anche di costruire insieme delle proposte di risposta a questi insulti, queste molestie. L'esperienza della palestra di autodifesa verbale è stata poi tradotta in una campagna di sensibilizzazione contro il catcalling diffusa mediante 15 brevi videoclip. Due frasi particolarmente incisive, se non rispondo al tuo catcalling è perché ho di meglio da fare e il catcalling non ti rende più figo, sono state riprodotte su t-shirt che i ragazzi diffonderanno tra i propri coetanei. Studenti e studentesse di Valenza e Alba, protagonisti di un corso formativo di cittadinanza attiva nell'ambito del concorso, il Consiglio regionale ci dà credito. Un'occasione anche per visitare Palazzo Lascaris. Studenti in visita a Palazzo Lascaris, protagonisti della prima visita guidata di questo 2023, i ragazzi e le ragazze dell'Istituto Cellini di Valenza e dell'Istituto Inaudi di Alba che hanno visitato il Palazzo, sede del Consiglio regionale, e hanno poi avuto la possibilità di partecipare a un corso formativo di cittadinanza attiva nell'ambito del progetto Il Consiglio regionale ci dà credito. Un concorso speciale ideato in occasione dell'Anno europeo dei giovani in cui gli studenti sono chiamati a formulare proposte in ambito di transizione ecologica, digitale e cittadinanza europea. Una cittadinanza attiva che deve essere interpretata come una vera e propria palestra per avvicinare sempre di più i ragazzi alle nostre istituzioni. La politica deve parlare ai giovani perché deve ridare quella fiducia che forse abbiamo un po' persa. Gli studenti vincitori, fino a un massimo di 50, parteciperanno entro la fine dell'anno scolastico 2022-2023 ad uno dei viaggi studio previsti. Mi è piaciuto molto il fatto che ci abbiano inclusi così tanto perché sembra una banalità ma è importante che i giovani siano coinvolti in queste cose e devo dire che tutta questa mattinata mi ha fatto molto piacere. La consapevolezza di quanto sia importante il nostro ruolo nella società, nella regione e nello Stato. Per questa edizione è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci! Grazie a tutti! Grazie a tutti.